salve sono qua salve prego si accomodi cosa voleva di cosa aveva bisogno esattamente si ok vi faccio vedere le sue mani le sue unghie mamma mia sono inguardabili sono orribili ma cosa combina con queste mani cioè mezze lunghe mezze corte mezze mangiate ma cosa devo vedere io mamma mia cosa devo vedere cosa devo vedere allora meno male che è venuta da me perché guardi posso darti del tutto anche se non ci conosciamo guarda fai veramente bene ci sono tutte le pellicine che stanno uscendo te le taglio tutte assolutamente tutte le pellicine guarda qua sei piena pazzesco ma come fai a non curarti le unghie non lo so allora ho tutto quello che serve ho preparato tutto si 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 sei l'ultima cliente di oggi quindi spicciati facciamo una cosa un press un press veloce veloce qua dentro sembra una scatola del gatto non ci viene il gatto ci sono tutti i miracoli gli oggetti miracolosi per curare le tue unghie indecenti vedi che bello allora ti usiamo tutti gli attrezzi che ci sono qui dentro assolutamente hai bisogno di tutti questi attrezzi soprattutto questi questi qui il taglio unghie perché hai delle delle unghie veramente inguardabili io non so come fai andare in giro a fare la spesa a incontrare i tuoi amici andare a lavorare con queste unghie con queste mani iniziamo subito allora ti tolgo le pellicine a parlare troppo la voce se ne va allora così si si sei agitata sento le maniche tra in mano ci penso io si tu non ti lamentare però perché tanto un pochino di male devo farti per forza cioè cerco di non farti male ma un pochino di male sì per forza devo farti sì 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 ma è certo ma è per forza cioè dopo anni e anni che non ti curi le unghie pretendi anche che non ti faccio male non pretendere che io non sono dio che faccia i miracoli quindi questo l'abbiamo usato aspetta che non si chiude questa cosa ma è dentro ok taglia unghie allora più grosso di così non ce l'ho te lo fai bastare te lo fai andare bene eh che cavolo già non so sei venuta qua per comandare non andiamo d'accordo assolutamente è piccolo ma questo abbiamo e questo uso non ti lamentare senti eh sei già arrivata alle 6 che io dovevo chiudere il negozio qui non ti lamentare se non ti faccio male veramente se ti muovi con le mani ti rischio di farti male quindi non ti lamentare meno ti lamenti meno ti muovi con le mani e meglio è ok meno ti muovi con le mani e meglio è eh bussano ma non ti preoccupare se bussano nessuno vuole te nessuno ti cerca al massimo cercano me ok facciamo dei lunghi respiri si lo so che senti rumori ma non sentire niente tanto nessuno ha bisogno di te quindi non ti preoccupare che non sei richiesta da nessuno oggi non ti piace questo suono a me piace allora prima di passarti a limare le unghie te le pulisco perché sotto le unghie le unghie che sono rimaste hai della sporcizia no comment guarda non so veramente cosa dirti perché sei inguardabile con queste unghie con queste mani così stai ferma stai ferma questo non ti fa male vedi che cos'è una spazzolina non ti può fare male ce lo sia così che così rettangolare o rotonda ma non ti faccio male cioè non è possibile che anche con questo ti faccio del male non puoi lamentarti sempre non puoi non puoi respira adesso ho già mal di stomaco non c'era che mi sta levando pulisco solo le unghie e poi te le levo quelle poche le unghie che hai un bellissimo suono un bellissimo suono anche questo come fai a dire che non ti piace sopporta sei veramente sopportabile mamma si ho gli occhi che mi bruciano ma sempre in ritardo devi arrivare sempre l'ultima devi essere arrivare un po' in anticipo prima che chiudo no sempre alle sei e mezza devi arrivare sono stanca si ho qualche problema non lo so la faccia è blanca tu sarai bella anche le unghie sono belle come sei bella tu uguale sempre che ti lamenti non sopporto le commesse che si lamentano le commesse che non si lamentano le commesse che non si lamentano mi piacciono ma quelle come te che si lamentano sempre non le sopporto vedi di non lamentarti tanto che è meglio si c'è il computer acceso allora ma che problema sei nel mio salone nel mio centro nel mio negozio quindi comando io anche dall'altra mano è una difficoltà a pulire le tue unghie perché sono sporchissime cioè io non so e vuoi anche venire un'altra volta a farti fare le maschere a farti fare dei trattamenti qui da me con che coraggio bisogna aprirti tutti i pori perché sei piena di nei piena di bustole ma curarti a casa farti delle maschere non esiste una cosa troppo difficile per te l'ho capito va bene ma questo trattamento e a me non vale nessun fastidio sei proprio insopportabile a voi pure la crema ah ecco mamma mia quante richieste che fai anche le mie unghie si sono pulite guarda sono corte ma sono pulite io col lavoro che faccio devo tenerle corte le unghie non posso averle lunghe 10 cm cioè pensaci prima di parlare pensa bene prima di parlare che se no spari cavolate ti uso questa crema proprio perché voglio farti andare a casa decente meglio di come sei arrivata ti metto la crema solo sulle unghie sulle cuticole sulle dita e poi te la passi tu sulle mani ok ah te lo devo passare io vabbè la regina proprio è arrivata la principessa agli ordini capo agli ordini capo vabbè bianca certo come la volevi fucsia la crema ahhh lascia fare a me che tu non ne sai niente di creme quindi inutile che parli a sproposito ok te le massaggio io le mani si principessa hai i suoi ordini eh si non ti piace neanche il profumo ma non ti piace niente proprio ma come si fa hai un fidanzato un marito qualcuno o sei da sola ah per forza che sei da sola non ti sopporta nessuno mi fa morire da ridere sei da sola perché nessuno ti vuole e per forza non ti piace niente il profumo non ti piace la spazzola non ti piace non ti piace niente ti lamenti sempre per forza che sei da sola eh stai zitta un po' va non parlare basta tanto i trattamenti sono finiti quindi spero che ti vadano bene perché sennò vai da qualcun altro se non ti piaccio io ah mi piace tanto questa crema è fantastica è pure economica certo io non compro cose di marca per te poi vabbè va lasciamo stare a presto se vuoi proprio tornare torna pure se non ci sono io ci sono i miei colleghi comunque che ti aggiustano loro ciao adesso me ne vado a casa ciao